Un festival importante che da oltre 20 edizioni si occupa di musica e soprattutto di scovare talenti. Molti sono stati alla ribalta nazionale, hanno avuto delle carriere splendide, quindi è un dato importante. Il Comune patrocina questa manifestazione per cui la finale nazionale sarà a Sanremo. Quindi un modo di fare buona musica della nostra regione è che ha anticipato i social perché da 20 anni si scoprono talenti che vogliono e hanno la passione per la musica e che poi magari diventa anche una vera e propria professione. Paolo Minucci, una bella soddisfazione quest'anno poter fare questa finale proprio nella patria della canzone italiana. Certo, d'altra parte sono ragazzi bravissimi, preparatissimi, il livello artistico è davvero eccezionale. Non dimentichiamo che questo è il festival che ha lanciato autentici talenti della musica come Piero Mazzocchetti, Gio di Tonno, Gianluca Ginobble. Sono passati tutti da questa rassegna che offre l'opportunità gratuita a tanti giovani di esibirsi.